Mi trovo ad Agropoli, presso lo chalet del pittore, in occasione delle due serate di spettacolo, musica e varietà, è bello un magnà. Tante sono le persone che sono accorse a questo importante appuntamento, andiamo a curiosare e a chiedere il giusto gradimento di queste due belle serate. Noi invitiamo sempre tanta gente, tentiamo di dargli sempre il meglio e in questo periodo specialmente, che ci vuole un po' di allegria e un po' di compagnia ci vuole perché è triste, quindi divertiamoci. Pasquale, qua principalmente, oramai ti conoscono tutti, il locale e anche i vacanzieri, principalmente cornetti, brioche, stasera in occasione della serata anche degli ottimi panini con la salsiccia. Panini con la salsiccia, panini con il buster, tentiamo di accontentare anche chi vuole il salato, senza alcol perché alcol noi in questo locale non ne vendiamo e poi per il resto tentiamo di accontentare un po' tutti, dai più piccoli ai più grandi. Saranno altre serate tipo questa? Sì, ci saranno altre serate, già sono in cantiere, ve ne daremo notizia perché vi aspettiamo in tanti. Noi siamo aperti dalle 5 di pomeriggio fino a tardanotte, le 3, le 4, le 5, dipende dall'afflusso della gente. Ma il bilancio di queste serate ci sono venute molte persone, siamo molto contenti che si sono venute a trovare, questo spettacolo è stato creato così, su due piedi per stare un po' insieme, in amicizia, insomma per far cantare pure queste persone che vicino al karaoke si divertono tanto, abbiamo due mesi di prova e abbiamo messo in su questo spettacolo. Progetti per il futuro, speriamo di fare altri spettacoli così perché si divertono tutti, io lo dico a tutti, lo scegliete il pittore a disposizione di tutti, potete venire, c'è divertimento, si possono divertire i bambini, ci divertiamo tutti quanti insieme, vi aspettiamo qua. Noi quello che possiamo organizzare è far divertire le persone e stare insieme in amicizia perché l'amicizia è una cosa importante. L'ospitalità di questo posto come la valuta? È molto buono, noi ogni tanto prima del covid venivamo, passavamo qualche serata con gli amici, adesso stiamo ritornando. Una bella serata, tranquilla, passatela panini, poi... Bella, semplice, tranquilla. E poi cornetto. Questi momenti delicati che stiamo vivendo, insomma. Venite qua dal pittone che si sta benissimo, insomma, passerete una serata tranquillissima insieme ai vostri amici, parenti. Io con grande piacere vengo sempre a trovare Pasquale. Io lo consiglio a tutti perché a parte l'ospitalità e la gentilezza di Pasquale che conosco da una vita, posso dire che... E poi il cornetto e tutto il contesto piacevole consiglio a tutti i salernitani, miei concittadini, di venire allo chalet di Pasquale perché sicuramente trascorrerete una bellissima serata. Mi pensa dello chalet del pittore e di questa serata? Buonissimo, una bella serata veramente organizzata bene, è un'atmosfera bellissima, veramente estiva. Venite sempre da un pittore che si mangia bene sia il cornetto e poi l'occasione serale stasera che è stato il panino, buonissimo. Veramente una cosa eccezionale. Ciao a tutti, vi invito a venire qui allo chalet del pittore che fanno cornetti buonissimi e brocce buonissime.